All'alba presto dai si partirà, via tutti insieme al bar per fare colazione, si sa ci vuole anche una discussione, ma è già deciso che si va a tutti là. Carabina, zaino e pesante giacca, stivaloni e rigi e trasmittente, tutto ok, non manca proprio niente e tra poco spariranno nella macchia. Chi ha le poste, chi ha i cani addestrati, prima però un ultimo boccone, un po' di vino per scioglierla tensione, e sono pronti tutti i piani ben studiati. Senti se fusi e la organizza, e come la buca la bastiona nera, se non l'accendi è sfortuna vera, spatti il pochino e ti prendi una grandizza. Zoom, brum, zoom, fa il cinghiare, dai, 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 prova a sparare, prendi la mira tra i cestugli verdi, stai attento che se non lo perdi. Zoom, 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 fa il cinghiare, dai, 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 prova a sparare, ma stavolta hai svelto per davvero, salta il fosso e ti fa marmeo. Chi non sbaglia è certamente più additato, quando è a caccia la sua donna dove va, Ma che importa quella lì che cosa fa, si gode solo il suo trionfo meritato Ora è a casa e finalmente si riposa, sonnecchiando nel divano se ne sta Fa un sorriso e trionfando sogna già, un fucile, un cinghiale lui imposa Brum, 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 fa il cinghiale, dai, 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 prova a sparare Prendi la mira tra i cespugli veri, stai attento che se no lo perdi Brum, 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 fa il cinghiale, zoom, 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 fa la sua donna Stai attento a non lasciarla troppo sola, prendi la mira anche sotto le lezzuola Prendi la mira tra i cespugli veri, stai attento che se no lo perdi Brum, 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 fa il cinghiale, dai, 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 fa la sua donna Dopo averla bene accontentata, puoi ripartire per la prossima cacciata Dopo averla bene accontentata, puoi ripartire per la prossima cacciata